in casa guanti anche in casa mascherina p2 e vabbè non ho perso neanche l'allegria per cui vuol dire che tutti sommato faccio questo messaggino perché mi hanno telefonato tante persone che per sbaglio è apparso un mio piccolo video su facebook e l'avevo mandato a pippi e non so come ho toccato un tasto e partito allora tanto vale che io lo dico ma non c'è niente di male purtroppo l'italia è piena l'importante è stare attenti non uscire io non esco più in casa ci mancherebbe altro né io nei miei familiari purtroppo l'ho attaccato anche una mia sorella e pippi che mi sta facendo questo filmato mi auguro e spero lui dice che ti senti bene vero pippi lui dice che si sente bene va bene un bacio e a prestissimo ciao 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 ciao